ciao a tutti oggi volevo mostrarvi il mio ultimo acquisto carnivoro da di flora devo dire che la spedizione è stata velocissima due giorni lavorativi massimo volevo vedere insieme a voi i miei acquisti devo dire che già l'imballaggio è ottimo visto che le nostre piante sono molto delicate e che dire inoltre del confezionamento io lo trovo spettacolare vi faccio vedere questo è un omaggio che mi hanno messo poi abbiamo una micro dent adesso ve le faccio vedere confezionate poi li apriamo insieme una pro giant e una periscope vediamo allora prendiamo ad esempio la micro dent nella pianta sento già che è molto umida quindi più di una pianta c'è anche fiori le userò sicuramente per fare delle talee voglio aprire anche un'altra vediamo la pro giant questa è molto bella credo sia una delle delle piante che forma le trappole più grandi in assoluto per ora volevo ringraziare di flora che mi ha mandato queste bellissime piante e questa è una selezione fatta proprio da loro beh che dire non mi sembra molto piccola questa è la periscope vediamo molto caratteristica perché ha una colorazione particolare ora vi faccio vedere delle trappole vedete all'interno è molto rossa ecco qua l'ultima molto carina anche questa questo è un omaggio e vi ringrazio ancora molto carino inoltre l'utilizzo del nome della pianta usabile anche come cartellino per riconoscere quest'ultime ciao 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 ciao